Allora, a tutti buongiorno, lunedì 17 dicembre Vi dico, aggiornamento settimanale La rosa potentissima delle riserve E' questa qui Con parolo Team of the Group Stage E... Sono riuscito a far fuori classe 1 ragazzi Con questa rosa marcia qui In squad battle Mentre la rosa dei titolari E' rimasta questa qui Non è più Road to Aguero perché... O Aguero insomma E' Road to Neymar E io mi ci trovo bene da morire ragazzi Velotti... Velotti... E' mostruoso Mostruoso E' Verdi pure E' una bestia Milinkovic è sempre più forte ora che l'hanno uppato di 1 Di valutazione Anche con il Papu Mi ci sto trovando Comunque Morale della favola La rosa è questa Una rosa di merda Più o meno ormai L'ho riuscito a far Oro 3 Al pelo però ce l'ho fatta Quindi In Foot Champion Weekend League Allora C'ho 1.257.000 crediti La decisione finale E' stata questa qui Di fare Un attimo La decisione finale E' andare a fare questa formazione Ora vi faccio vedere Ah Questa qui Lasciate perdere Culi Balicchi e Lini e Alexandro Che poi si riavranno Ma la formazione finale Sarà questa qui Neymar Toven Bappé Quindi Detto questo Detto questo Comprerò sia Neymar Che Mbappé Con Predatore De Dai E penso che li compro oggi Perché Ho visto i grafici Dell'oscillazione Dei prezzi Dell'anno scorso E alla fine Sono già calati un pochino E non è che caleranno Ancora di tanto A quello che ho visto Rispetto all'anno scorso Poi Detto questo Andiamo A ritirare I premi Della Foot Champion Se è in Foot Champion Delle Squad Battle Due pacchetti Mega E 30.000 Per Il fuoriclasse 1 Chiellini Niabri Common Goal Squad Bella Merda Tutte e due Allora Qui Nelle Rivals Mi mancano ancora 6.000 8.000 Punti Per essere sicuro Livello 1 Poi Andiamo allora A aprire I pacchetti Due me le ero fatti Pacchetto Mega Me lo son fatto Con le sfide Del SBC Una costruzione rosa Dei Footmas E due Sono questi Delle Squad Battle Quindi Diciamo Sta stronzata Di uscire Rientrare Perché dice Che si trova meglio Allora Questi pacchetti Qui Secondo Nigel Sono rotti Nel senso Che ci si trova Roba buona Vediamo Se è solo Culo imploso Delle altre persone O la verità Un'icona Su Roba verde Nemmeno Gli sportelli Cacchio E' questo Cesso Cesso I Camp 82 Chiaramente Noi Non si trova Un cazzo Mamma Mia Che Cesso Questo Probabilmente Si riesce a Vende Perché Inglese Starridge Pure Per via Del Forse Di Firmino Nella sfida Nella sfida di Firmino Addirittura Gli sportelli Sportelli Il cacchio è questo Napoli Amsic Amsic 87 Amsic 87 Del valore Potentissimo Di Del potentissimo Valore Di Amsic Che può tornare Utilissimo Perché Per vende Vale 29.000 30.000 E' in salita Il prezzo Per via Delle sfide Che ci sono Ora Quindi questo Con 30k Anzi a coci E' Ho spesso C4 5.000 Per fare Questi due Pacchetti Quindi Direi Che Il prezzo E' stato Ripagato Con questo Amsic Vediamo Un po' Con quelli Delle squad battle Sportelloni Inglese Portiere Everton Pickford Pickford Che vale La bellezza Di 1100 Signori Una potenza Naudita Però anche lui E' inglese Dyer inglese Defoe inglese Questi li vendo Probabilmente Questi li vendo Qualcosa ci raccatto Di sicuro Uh La maglia ospiti Dell'Inter Merda Attenzione E la maglia In casa Del Milan Finalmente La trovo Dopo 3 mesi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Dopo 4 mesi Praticamente Trovo la maglia Del Milan L'ho dovuto Comprare A 250.000 Sì 250.000 250.000 Crediti Perché non c'era Vezza di trovarla In un pacchetto Allora Ultimo pacco Vai che viene Bianco No Verde Niente Sportelli Un cesto Spagnolo E di Joaquin Di merda Estadio Maestaglia Orange Velodrome Parigi Di merda No Poi l'Olympic Marsilia Mi sa Velodrome Altri Tedeschi Di merda Allianz Stadium Va bene Questo è quanto Quindi Ripeto Signori 1.287.000 Più ci sono I 30k Di Amzic Ora si vedrà Se tenessero o meno Perché secondo me Un foot mass Di serie A O P Arriva E quindi Vedo un po' Qui c'è Zachariah Calleion Non è da fare Chiaramente Per chiunque Avesse in mente Di fasselo Io non lo farei Perché con Due Due o tre Stelle Piede Debole Ma non me lo fa vedere Ora comunque Vabbè Non è da fare Così come non è da fare Questo essere qui Allora Signori Io vi saluto Ci si aggiorna A giovedì Con spacchettamenti Foot Champion Che ricordo Come dice qui Oro tre Ve lo faccio Vedete anche qui Comunque oro tre 14 vinte Su 30 giocate E quindi Giovedì mattina Ci si becca Altri due pacchetti Mega Un pacchetto Giocatori rari Due if Si spera O P E 30k Crediti Più Si vedrà Se Nelle rivals Mi scelgo Anche questa Settimana Mi scelgo L'opzione 2 Cioè Due pacchetti Euro premium maxi Un pacchetto Giocatori rari Un pacchetto mega Oppure Se mi prendo 58.000 Crediti L'altra settimana Ho scelto L'opzione 2 Questa settimana Non lo so Che davvero Si penserà Di qui a giovedì Intanto Oggi ci si compra Lui E Mbappé E si guarda E toven If E si guarda Che succede Di qui a giovedì Quindi Ciao a tutti Buona giornata Buon lavoro Ci sentiamo Più tardi Con la live E con Le due nove bestie Tre nove bestie Chiaramente Belotti Rimarrà Attaccante Ciao a tutti